Ogni anno il 31 maggio l'Organizzazione Mondiale della Salute celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco per mettere in evidenza i rischi per la salute associati al fumo di sigaretta e sostenere politiche efficaci per ridurre il consumo di tabacco. Tra i fattori di rischio che concorrono maggiormente alla perdita di salute un posto di primo piano spetta sicuramente al fumo riconosciuto come uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo. Per l'OMS il consumo di tabacco è una delle principali cause di morte prevenibili al mondo ed è un importante fattore di rischio di malattie come il cancro, le malattie polmonarie e quelle cardiache. Più di 8 milioni di persone ogni anno muoiono a causa del consumo diretto di tabacco. Anche l'esposizione al fumo passiva è dannosa per la salute causando annualmente circa 1,2 milioni di morti nel mondo. L'allarme è soprattutto per gli adolescenti. Il 36,6% degli studenti nella fascia tra i 14 e 17 anni e il 9,6% tra gli 11 e 13 consuma almeno un prodotto tra sigaretta tradizionale, sigaretta elettronica o tabacco riscaldato. Contrariamente agli adulti, tra i giovani il consumo è più diffuso tra le ragazze. Cale il numero complessivo di fumatori in Italia ma aumenta il numero di sigarette fumate. Fuma il 20,5% della popolazione italiana sopra i 15 anni ma aumenta la media del numero delle sigarette fumate, 12,2 sigarette al giorno e un quarto dei fumatori supera le 20. Si fuma di più al sud rispetto al centro e l'età media dei fumatori è di 46 anni. Tra i fumatori l'81 e un per cento consuma sigarette confezionate, l'11 e 2 per cento sigarette fatte a mano, il 14 per cento sigarette a tabacco riscaldato e il 5 per cento sigarette elettroniche. In Italia si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93 mila morti ogni anno. Il tabacco provoca più decessi di alcol, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Circa il 50 per cento dei fumatori muore in media 14 anni prima dei non fumatori e i fumatori sono affetti per più anni da condizioni precarie di salute. Alcuni studi evidenziano anche che il fumo passivo può avere un impatto intergenerazionale, per esempio nipoti di donne che hanno fumato durante la gravidanza hanno maggiori probabilità di sviluppare l'asma. Perché smettere di fumare? È un investimento di salute a cui non si può rinunciare perché consente di ridurre il rischio di sviluppare molte condizioni patologiche e proteggere chi si ama dal fumo passivo riducendo ad esempio il rischio di molte malattie dei bambini d'esposizione al fumo. Smettere di fumare fa bene anche a chi ha già sviluppato malattie correlate al fumo. Smettere di fumare fa bene a noi e a chi ci sta accanto. Bene, ben ritrovati insieme quindi con questo servizio su un tema molto importante. Ne parleremo proprio a strettissimo giro in occasione della giornata mondiale senza tabacco che si celebra domani con il dottor Paolo Cascavilla. Buongiorno dottore, ben ritrovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Siamo felici di riaverti nei nostri studi e siamo noi che ringraziamo te per la disponibilità che è il tempo che ci dedichi perché parlare di salute e di prevenzione non è mai abbastanza, la consapevolezza deve essere sempre alta e mentre vedevo il servizio realizzato dalla collega stavo considerando una cosa che nonostante la società sia molto cambiata rispetto all'approccio con il fumo, io ricordo quando andavo a scuola, alle scuole elementari, in aula i maestri, le maestre fumavano liberamente, non c'erano disposizione. Ecco, nonostante abbiamo fatto tanti passi in avanti. Purtroppo i numeri che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto, sono numeri che hanno la caratteristica quasi di una pandemia. Certo, una pandemia dimenticata, una pandemia trascurata e alla stessa stregua di una pandemia provoca gravi danni alla salute. Pan è una paroletta greca che significa tutto, quindi è una pandemia non solo numerica, come abbiamo ascoltato dal servizio, ma anche, direi, una pandemia generazionale, cioè riguarda tutte le fasce dell'età, dai ragazzi in erba che cominciano a fumare nelle varie fasi successive della vita, ma anche una pandemia multiorgano, perché colpisce tutto il distretto organico, tanti organi, ma non si può parlare di questa pandemia di fumo sganciata da altre realtà, quali, ad esempio, la natura, tutto ciò che è natura viene colpito dal fumo, tutta la filiera, dalla produzione allo smaltimento, per cui il fumo incide sulla nostra aria, sul suolo, sui fiumi, sui mari e si abbatte come una scure gigantesca sulle foreste, sui boschi, per far posto alla pianta di tabacco. E qui devo dire una cosa, io chiamerei proprio in causa il diretto interessato, il testimonia, l'albero. L'albero è un donatore di ossigeno e noi siamo i riceventi. Rischiamo col fumo di recidere questo cordone umbilicale che lega la natura all'uomo, una catena, un cordone ancestrale, un'amicizia ancestrale, una respirazione circolare. Quindi col fumo andiamo a recidere questo cordone umbilicale che lega Madre Terra ai suoi figli, che siamo noi. Molto bella questa immagine che ci avete regalato, ovviamente non dimentichiamo anche quanto inquinamento producano, per esempio, per fare un esempio pratico rispetto a quello che diceva il dottore, i mozziconi di sigaretta. Quando le associazioni ambientaliste si prodigano in quelle iniziative di pulizia delle città o appunto dei boschi, in poche ore riescono a raccogliere tanti di quei mozziconi di sigarette che sono spaventosi i numeri che ci restituiscono e quindi spaventoso è l'impatto che si ha sull'ambiente. Voi solo ieri, dottore, siete stato in una scuola di Manfredonia per parlare di benessere psicofisico ed è molto bello il titolo dell'incontro, Dalle catene delle dipendenze alla voglia di vivere. Ecco, pensavo proprio questo, a quanto tante volte il fumatore sia masochista perché appunto non riscoprire l'importanza di certi legami con la natura, con il benessere anche quando appunto, come nel caso del fumo, il danno non è solo diretto per chi fuma ma anche indiretto per chi riceve il fumo passivo, come vedevamo addirittura nel servizio che si può ripercuotere attraverso anche le gravidanze da una generazione all'altra. Naturalmente dai legami vitali si passa a un legame di schiavitù che è la dipendenza, che è un legame privo di libertà. Quindi queste cose vanno dette ai giovani e oggi bisogna combattere la disinformazione perché quest'anno il tema della giornata mondiale è proprio la tutela dei giovani dalle influenze delle multinazionali che disponendo di ingenti somme di denaro finanziano gli influencer, il mito degli influencer, queste sirene mediatiche. I giovani, sappiamo, sono familiari con i social, quindi assorbono tutto quello che viene loro detto e questo crea nei giovani una dipendenza. Come possono difendersi i giovani da questo assalto mediatico? Innanzitutto bisogna lottare contro la disinformazione, informare i giovani. Oggi si parla di tabacco riscaldato ma così non è perché il tabacco riscaldato raggiunge una temperatura di più di 300 gradi, quindi c'è già un inizio di combustione con tutti i prodotti tossici. Un'altra cosa, i giovani pensano che con i nuovi prodotti, anche quelli usa e getta, lo svapo sia un vapore acqueo, non è così? Sì, perché dobbiamo ricordare che da qualche anno ormai, forse da un decennio, non so dirlo con esattezza, si sta passando dalla sigaretta normale alla sigaretta elettronica, quella che, come anticipava appunto lei, si utilizza attraverso la tecnica dello svapo, cioè si aspira quel vapore del tabacco riscaldato e poi lo si, ovviamente rigetta nell'ambiente come uno sbuffo di fumo tradizionale. Ma fa male quanto la sigaretta? Distinguiamo il tabacco riscaldato che è di derivazione della foglia di tabacco dalla sigaretta vera e propria elettronica dove c'è il liquido e dove c'è nicotina sintetica. Sono due cose ben diverse, però lo svapo non è, come dicevamo prima, semplice vapore, è un vero e proprio aerosol imbevuto di microparticelle che vengono inalate, ricche di aldeidi, sostanze quindi molto tossiche, di metalli pesanti che si sciolgono durante il riscaldamento e passano nel vapore, è della stessa nicotina che ha un fortissimo potere nel creare la dipendenza, cioè quel legame forte che lega il consumatore alla sostanza. Anche qui la disinformazione bisogna combatterla anche nei genitori, perché molti genitori, io vedo molti genitori accompagnare bambini piccoli all'esterno portandoli per mano ma stringendo tra le dita dell'altra mano il fumo e la sigaretta. Forse ignorano una cosa che ormai la scienza ha chiarito, che la nube tossica, la scia tossica che il fumatore espira anche all'esterno ha un raggio di 10 metri e quindi contamina i minori e le multinazionali. Cercano proprio questo perché il cervello dei giovani è un cantiere delle impalcature cerebrali ancora in formazione, quindi loro sanno benissimo questo e il cervello dei giovani è terreno fertile per impiantare la dipendenza, è come se la nicotina lasciasse le sue impronte digitali e poi la nicotina apre la strada ad altre droghe, proprio perché sensibilizza il cervello giovanile. Bene, bene dottore, tra l'altro apprezzo molto anche la sua enfasi perché ecco se richiamo quel ricordo della mia gioventù quando addirittura gli insegnanti fumavano in classe oggi dicevo abbiamo fatto tanti passi in avanti ma non bisogna abbassare la guardia perché come dicevamo gli effetti del fumo sono estremamente nocivi non solo per chi fuma ma anche per chi sta intorno ai fumatori e quindi bisogna mantenere alta l'attenzione sul fenomeno tanto più che come dicevamo in apertura l'impatto non è solo estremamente significativo verso gli esseri umani ma anche verso l'ambiente. Per chiudere, un messaggio finale? Un messaggio finale ovviamente diretto ai giovani visto che la giornata mondiale è rivolta alla tutela per tutelare i giovani ci vuole la conoscenza. I giovani sono esuberanti per via dell'età hanno voglia di entrare nel mondo e di conoscere il mondo e sono curiosi e quindi io li vedo come al volante di un fuoristrada col piede sull'acceleratore e quindi che cercano continuamente di andare fuori pista. Ecco la scuola, la sanità dice sicuramente molti no, no al fumo, no allo svapo, no all'alcol, no alla cannabis. Quindi io vorrei che questi semafori rossi facessero scattare un semaforo verde che esistono altre strade la strada della vita, la strada della realizzazione di se stessi e scoprire varchi per far passare i propri sogni per realizzare quello che veramente i giovani vogliono. Ci sono in effetti tanti modi per realizzarsi, tante strade anche per mettere in luce i propri talenti mentre facevate queste importanti riflessioni pensavo all'arte, la musica, il disegno, la pittura, la scrittura ma perché no anche lo sport. Ecco sport e vita sono un connubio ancora più forte per cui cari giovani datevi alle arti virtuose e non al fumo. Sì, anche la scuola dovrebbe valorizzare, non limitarsi solo alle competenze disciplinari ma valorizzare tutti gli aspetti della persona umana, quindi anche quelli creativi. E un'ultima cosa potremmo lanciare un po' a tutti i fumatori. Tutti i fumatori dovrebbero pensare seriamente di decidere di smettere, operare questo cambiamento e non ipotecare la propria salute, ma io direi la propria malattia con quel contributo giornaliero acquistando prodotti nocivi. Piuttosto sottoscrivete una polizza gratuita per la vita vostra e dei vostri figli che è quella di operare questo cambiamento, di decidersi una volta per tutte magari facendosi aiutare da personale qualificato, sanitario o psicoterapeuti di smettere di fumare. Grazie dottore, è stato veramente un piacere fare due chiacchiere con lei stamattina speriamo di ritrovarla presto in questi studi perché, come diceva lei, fare consapevolezza è importante tanto quanto fare prevenzione. Alla prossima! Grazie, grazie mille. Grazie mille.